Aprirà a breve qui ad Olgiat e Mulgora un centro per gli apprendimenti in collaborazione con il comune di Olgiat e Mulgora, con Rete Salute e realizzato grazie al lavoro dei ragazzi di Utile Estate che hanno fatto questa sperimentazione utile autunno che ringraziamo perché hanno trasformato questo spazio davvero nel centro per gli apprendimenti che avevamo ipotizzato di realizzare. Qui inizieremo martedì, martedì con una trentina di bimbi con difficoltà di apprendimento, dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia tutti collegati ovviamente a una relazione diretta con la scuola e diventerà speriamo un centro per il potenziamento cognitivo è una sperimentazione che riteniamo possa essere significativa con il supporto di una serie di specialisti che si occuperanno direttamente dei ragazzi e che si collegheranno a comune, scuola, Rete Salute e ai servizi del territorio.